Ciao a tutti, sono Alessandro Sparano, leader commerciale per l'Eye Pressure & Floor Care di IPC e oggi parleremo di come scegliere tra l'acqua calda e l'acqua calda. Per prima cosa è un'acqua calda e come funziona. Un'acqua calda usa l'acqua calda di l'acqua calda per pulire le superfici, ridurre la malattia e lavare. Ci sono due tipi di acqua calda e l'acqua calda. L'acqua calda ha l'acqua calda e per la decisione tra l'acqua calda e l'acqua calda. Per fare l'acqua calda dovresti considerare 4 fattori. Il primo, l'acqua calda, l'impatto del detergente nel processo di pulire. Il secondo, l'acqua calda, usando la pressione e il volume di acqua. Il terzo, il tempo, quanto tempo la pulire. Il quattro, l'acqua calda è ottima per dissolvere l'acqua e l'olio. Nel termine, l'acqua calda è ottima per pulire le particole inorganiche e minerali. L'acqua calda funziona bene su concreto, fasce, luci e superfici di temperatura. Inoltre, l'acqua calda è migliore per pulire i veicoli, l'acqua calda, l'acqua calda e le superfici di olio. L'acqua calda è più efficace su olio e la superfici di olio, ridurre il tempo, l'esercizio, e le caratteristiche necessarie per la pulire. Grazie e continuate a seguire!